E c'è una notizia abbastanza rilevante, signori, sul Grande Fratello Vip, questa edizione attuale, la numero 7, su uno, in particolare, un concorrente del programma. A sganciare la bomba è stato Fabrizio Corona che praticamente ha deciso di uscirsene con questa notizia sul reality show e sul concorrente, dove nelle scorse ore ha fatto un annuncio fatto su Telegram. Tutti quanti hanno scoperto cosa ha voluto dire su questo inquilino della casa che ovviamente non sa ancora nulla di tutto ciò e non lo verrà a sapere, ma proprio per niente fino al 3 di aprile, anzi dopo il 3 di aprile. Ma il pubblico invece lo ha già saputo e questo potrebbe cambiare tutto quanto. Ad appena tre giorni di distanza dall'ultimo atto e attenzione ai messaggi col megafono perché c'è gente che adesso sa può andare sotto la casa del Grande Fratello e dirlo a squarciagola. Attenzione. Ma al GF VIP 7 si è parlato anche di altro, non soltanto dunque per le dichiarazioni di Fabrizio Corona. Mentre tutti i protagonisti rimanenti del GF VIP 7 erano intenti a dare vita al GF VIP Radio, Giaele Dedonassi è rivolta ad Edoardo Tavassi e agli altri e, parlando di Nikita Pelizzon, ha domandato chi vuole fare le domande a Nikita. La reazione di tutti è stata decisamente glaciale e quindi nemmeno in questo momento di svago l'ascia da guerra è stata messa da parte. Giaele non ha più fiatato, mentre il fratello di Gwendalina ha subito rifiutato. Ormai siamo agli sgoccioli del GF VIP 7 ed Edoardo Tavassi sfiderà tutti gli altri per la conquista del Montepremi. Fabrizio Corona però ha ormai capito una cosa importante sull'ex naufrago dell'Isola dei Famosi. E, una volta capito cosa succederà, ha voluto rivelarlo ai suoi follower, che lo seguono su varie piattaforme. L'annuncio ufficiale è arrivato su Telegram, ma ha anche pubblicato una Instagram Story nella quale ha espresso il suo giudizio sull'argomento principale inerente il programma. Corona ha riferito che Tavassi vincerà l'edizione numero 7 del GF VIP. Allora ragazzi, come vi avevo promesso adesso vi svelo in anteprima il nome del vincitore del Grande Fratello 7. A vincere sarà Edoardo Tavassi e un perché c'è. Non è che dietro ci sia un complotto, è perché ha un metodo di come funzionano i social media. Vincerà lui, Edoardo Tavassi. Nessun dubbio per l'ex re dei paparazzi, che non vede gli altri vipponi in grado di competere con il fidanzato di Micoli in Corvaia. Staremo a vedere se il pronostico di Fabrizio Corona si avvererà, anche se gli scommettitori hanno praticamente la sua stessa idea. Si pensa che vincerà uno tra Tavassi e Oriana Marzoli, ma attenzione agli altri concorrenti, in primis Nikita Pelizzon. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip, tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. E se volete potete trovarmi anche sul format di intrattenimento, basta cercare Gratta e Vinci con Max e lì ci divertiamo un po' con i famosi Gratta e Vinci, tanto pago io, che pe frega. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.